troppo spesso l'alto adige viene definita erroneamente come una terra di mezzo in realtà una terra che ha una sua identità ben chiara forte che già in antichità veniva comunque espressa basti pensare che qui non siamo in realtà metà strada tra quello che è il mondo austriaco o comunque mitte d'europeo e quello che è il mondo italiano siamo decisamente in alto adige se ne accorsero anche i romani quando nel periodo in cui ancora la enologia romana non era la sua massima espressione andando appunto in su tirolo si resero conto che c'erano delle tecniche innovative per esempio l'utilizzo della botte per l'affinamento e la conservazione del vino quando nel territorio di roma dell'impero romano ancora si stavano utilizzando le anfore quindi questa era già un'innovazione importante che faceva capire come un'identità chiara e forte che si distingueva dal mondo della birra della mitte d'europa ma allo stesso tempo portava all'evoluzione quelli che erano i concetti più italiani più italici mettiamola mettiamola così si stava già affermando da quel momento in poi l'alto adige ha comunque rivestito un ruolo importante anche se ripetiamo ma erano principalmente vitigni a bacca rossa a dominare la scena e la qualità non era sicuramente così elevata ma era una qualità interessante e importante anche al tempo con l'avvento del dominio dell'impero austro-ungarico si è sviluppata anche la parte commerciale lì c'è stata poi questa contaminazione forte di vitigni anche di borgogna pensate che Bolzano era veramente lo snodo commerciale per la morgogna per accedere appunto la mitte d'europa ma stessa cosa anche per la toscana quindi immaginatevi proprio questi flussi continui di di scambio l'influenza però si faceva già sentire anche proprio nel nei nomi del delle tenute dei vari e dei vari masi dal parte tedesca della bavera iniziarono nel diciottesimo secolo addirittura in monasteri ad acquistare tenute in sud tirolo proprio per dare continuità a questa grandissima qualità che potevano essere espressa dai masi spesso volentieri troviamo dei nomi non facilmente pronunciabili intanto quando troviamo la parola vaingut fa riferimento alla tenuta quindi all'azienda agricola non è assolutamente il nome del produttore e poi di fianco abbiamo il nome del produttore che spesso e volentieri di origine appunto tedesca la tipo di pronuncia e non è proprio semplicissimo per tutti è il caso di pranzeg per esempio un'azienda che a me sta particolarmente a cuore un po per la sua storia un po per il modo di approcciarsi di martin goyer la persona che poi ha reso questa azienda questo maso estremamente famoso e importante soprattutto nell'ultimo decennio siamo all'inizio della valle zar come una parte sud a ridosso proprio della conca di bolzano qui abbiamo una buona discreta ripidità però fondamentalmente la caratteristica di questo territorio rappresentata dal caldo seppur mitigato dai venti siamo nella collina che guarda proprio la collina di santa maddalena quindi sono proprio all'opposto agli antipodi e qui la nonna di martin goyer iniziò il suo progetto agricolo addirittura negli anni 30 del secolo scorso ma fu poi martin nel 97 a prendere le redini dell'antico maso decidendo di cambiare piano piano step by step proprio quello che era l'approccio dell'azienda vitivinicola al tempo martin stesso produceva uve che poi andava a conferire inizia però appassionarsi piano piano a quello che è un modo di lavorare biologico e anche biodinamico così martin stiamo parlando di una proprietà che comunque si sviluppa su neanche tre ettari e mezzo però decide proprio di cambiare il suo modo di lavorare da 2010 decide appunto di iniziare a imbottigliare i propri vini piuttosto che a conferire e lo fa anche nella consapevolezza del lavoro svolto in modo biologico ma soprattutto biodinamico quindi vediamo la biodinamica rispetto delle energie il rispetto di questo equilibrio che entra in maniera prepotente all'interno del modo di lavorare di martin ecco goyer decide in questo momento di andare a focalizzarsi oltre su dei vitigni a bacca bianca classici ma di svolgere un ruolo fondamentale per la reinterpretazione dei due vitigni a bacca rossa che hanno fatto la storia del sud tirolo quei vitigni che per tantissimo tempo sono stati vinificati quasi in rosa a volerli proprio snellire alleggerire per fare vini più acidi ma che lui cerca invece di riaffermare in maniera molto chiara e netta parte dalla schiava che lui chiama con uno simolo la schiava liberata va a lavorare ora la schiava lo sappiamo è questo vitigno che tende a non avere praticamente vitigno a bacca rossa a non avere tannini o comunque avere una carica di tannino così bassa che diventa quasi impercettibile al palato un vitigno che quando andiamo a vinificare se lo andiamo a mettere il vino ottenuto in un calice nero servito un po fresco potremmo addirittura scambiarlo per un vino bianco grandissima acidità facilità di beva ed è proprio il vitigno che da origine ai cosiddetti vini da merenda però la volontà di martini in questo caso era quella proprio di riaffermare un'identità più chiara più complessa quindi il lavoro svolto in legno con doppio passaggio per cercare tirare fuori a legno anche un po di tannino quindi un sorso con un po più di grippe un po più di sostanza ma il lavoro più importante martin l'ha svolto sicuramente per quanto riguarda la grain la grain intanto è un vitigno a bacca rossa le cui origini si perdono nel tempo per tantissimo tempo abbiamo pensato che la grain provenisse dalla valle garina insomma il nome stesso sembrava far riferimento a questa ipotesi qualcuno diceva che invece provenisse dall'antica grecia che fosse stato portato lì con le rotte commerciali è stato dimostrato però che il la grain insieme al terodico quindi potrebbe esserci effettivamente una relazione tra il vitigno del trentino quello dell'alto adice sono figli entrambi del pinot noir quindi rispetto al pinot noir però hanno entrambi molto più volume struttura tannini molto più importanti molto più imponenti è un vino profondo scuro che guadagna di finezza e complessità soltanto in evoluzione per questo che martin cerca proprio di portare questo concetto ovvero le grain fatto per la conservazione fatto per un'evoluzione estremamente lunga in cui in questo vino troviamo delle note appunto estremamente complesse al naso dei tannini che con il tempo si smussano una bella freschezza che dà la possibilità proprio di far salivare il palato e quindi di accompagnare oltre a molti piatti ma anche non necessariamente di essere un vino solo gastronomico anche se l'importanza della struttura del corpo che martin riesce a portare nel suo laurence è un vino comunque che richiama il piatto quindi richiama anche il convivio stesso proprio come era un tempo quindi la volontà di Goya era proprio quella di andare a non sminuire non alleggerire ma dei due forse passatemi il termine ad appesantire i due vitigni a bacca rossa tipici tradizionali del sud tirolo proprio voler ribadire un'identità che piano piano abbiamo perso ma che forse è l'ora di riscoprire quando arriviamo oltre adice quindi continuiamo a viaggiare all'interno del sud tirolo e giungiamo nella zona di san michele a piano troviamo alcuni del dei cosiddetti vino motel quindi degli hotel degli alberghi legati tradizionalmente ai masi alle aziende vitivinicole più belli in assoluto è il caso di stroblof altro nome non facilissimo da pronunciare ma che è in grado di regalarci delle gioie incredibili perché i vini ma il luogo stesso sono quasi magici quando si arriva all'hotel stroblof ad accoglierci c'è sempre il l'eclettico andreas nicolussi lec che appunto la persona che ha dato la dettato delle linee guida moderne di vinificazione per questa appunto azienda agricola andreas è un personaggio interessante intanto facilmente riconoscibile dietro i banchi d'assaggio un po per il suo sorriso e per il suo carattere estremamente esuberante ma anche per il gusto nel vestire beh estremamente raffinato ed estremamente elegante lo porta comunque questa caratteristica personale a concentrarsi anche nel lavoro in vigna nel lavoro in cantina con un modo un approccio meticoloso teso proprio a tirar fuori quelle che sono le caratteristiche più nobili del pinot stiamo parlando sia di pinot noir ma anche di pinot blanc questo è un hotel con lo stroblof che già nel 1600 era attivo quindi c'è in realtà un retaggio storico incredibile però abbiamo anche quello che è una tradizione agricola abbastanza importante tanto il cognome nicolussi lec potrebbe aver fatto suonare qualche campanella sì perché quando parliamo tornando su un territorio non troppo lontano ma una realtà completamente differente quindi col terenzio di pfeffer di questo vino incredibile che deriva dall'omonimo vitigno avevamo come coltivatore un certo nicolussi lec che ha dato origine poi a questo vino conferendo le le uve che altro non è che una sorta di moscato giallo paglierino un moscato estremamente interessante ad ogni modo non stiamo raccontando questa storia stiamo raccontando la storia legata appunto al pinot siamo nella zona di san michele appiano con delle caratteristiche del terreno uniche perché qui abbiamo calcare porfido ma anche ferro è una terra quasi quasi rossa il domen virgolettato alla francese proprio per rendere omaggio al grandissimo lavoro fatto sul pinot noir di stroblof ha proprio in prossimità dell'albergo alcuni ettari di pinot noir che beneficiano oltre che di questo suolo estremamente interessante particolare ma anche di un clima unico abbiamo fatto presente come un po in tutto il sud tirolo e quasi tutto anche il trentino il gioco dei venti tipo l'ora riveste un ruolo fondamentale nel cercare di andare proprio a mitigare quelli che sono delle caratteristiche di clima più continentale qui il gioco è invece esattamente all'opposto l'estate in questa zona oltradige è estremamente calda quindi si cerca di avere un po di beneficio abbiamo bisogno di far respirare la vigna questo viene avviene grazie ai venti che entrano nelle nelle gole che entrano in quei punti in cui il ghiaccio in realtà anche in estate non si è mai ritirato del tutto e poi ritornano verso la vigna portando temperature più fresche quindi l'escursione termica è sempre molto importante tra il giorno e la notte ma abbiamo anche proprio delle brezze che nel pomeriggio tendono a rinfrescare un po un vigneto che altrimenti andrebbe ad esprimere un frutto estremamente maturo e carico di zucchero in questo caso si creano le condizioni perfette per sviluppare un lavoro con il pilon noir unico infatti stroblow che ripeto una cantina meravigliosa anche dal punto di vista paesaggistico e di design che fa della finezza e dell'eleganza la caratteristica principale e camminare con andreas attraverso i vigneti ci permette di cogliere subito questo questo aspetto però tende a lavorare su due pilon noir principalmente quindi un pilon noir che è una riserva in cui la selezione viene fatta prima di tutto in vigna e poi si va a lavorare in maniera classica da borgogna quindi su botte piccola però di quercia il lavoro che viene fatto è proprio teso a cercare di portare complessità ma senza mai negare quel frutto un po più piccolo tipico del pilon noir ma anche quella piacevolezza di beva è forse una delle espressioni più interessanti in sud tirolo di pinot noir fuori del vigneto mazzon quindi cerchiamo qui di avere anche più struttura più sostanza è incredibile però anche la versione più classica non riserva il cosiddetto pigeno o pigeno a secondo di come lo vogliamo pronunciare che segue un po il sistema di lavorazione della riserva però di fatto non è frutto di questa grandissima selezione di uve va detto che la proprietà comunque molto piccola sono circa 5 ettari totali di vigneto per una produzione che sfiora ma non super le 50.000 bottiglie l'anno una produzione piccola da doppia anima da un lato i vitigni a bacca rossa più no noir dall'altro invece abbiamo lo chardonnay che dà la possibilità comunque di andare a produrre uno chardonnay che ricorda molto da vicino la borgogna sia per complessità ma anche per grandissima freschezza ma il lavoro di andreas lo troviamo focalizzato sul pinot blanc quindi straler che questo il nome del suo vino un pinot blanc che è frutto di un lavoro sempre in stile un po borgogna cercando quindi di portare il pinot blanc che spesso e volentieri tende ad essere abbastanza soffice piacevole delicato con dei profumi abbastanza freschi verso la complessità verso una bocca più piena verso un sorso più avvolgente ma senza mai legare quella grande freschezza che è proprio il frutto di questo piccolo terroir andreas è estremamente accogliente infatti andare a camminare in vignaco lui ci permette di capire non soltanto la storia del di strobof ma soprattutto la storia del territorio perché avere un albergo che è riuscito ad accogliere dal 1600 i tanti passanti e a raccogliere quelle che sono le storie del vino altoadesino è estremamente raro quindi merita sicuramente una visita dal 1861 nella bassa tesina abbiamo una famiglia che porta avanti un progetto legato all'estrema qualità del vino con un'identità chiara ma anche a un rispetto ambientale come pochi altri stiamo parlando della famiglia fisher che lavora su sei comuni partendo però da quello di montagna che è proprio la casa quindi montagna con la m maiuscolo ovviamente che proprio la casa della famiglia fisher che è dove è stato dato origine appunto l'azienda oggi abbiamo il capo famiglia klaus ma anche il padre alfred facilmente riconoscibile perché spesso e volentieri ha un berretto all'americana che proprio lo contraddistingue va detto che alfred è un grandissimo esperto di vigneti mentre klaus ha avuto proprio la visione la voglia di inseguire quella qualità che negli anni 80 stava un po' sfuggendo al mondo appunto altoadesino ma ecco la famiglia fisher è riuscita a valorizzare al massimo quelle che sono le caratteristiche di quel territorio andando a giocare anche su vigneti altitudini differenti basti pensare che arrivano ad avere vigna a fielo schiller stiamo parlando di altitudini che superano comodamente 900 metri quindi veramente vigneti in quota il segreto però per poter portare il frutto alla corretta maturazione quindi poter fare dei vini anche equilibrati interessanti complessi è dato dall'irradiamento solare infatti in questa zona ma un po' quello che caratterizza tutti e sei comuni dove appunto la famiglia fisher va a lavorare abbiamo la capacità di avere una pendenza che è forse tra le più ripide in assoluto per quanto riguarda il territorio italiano quindi qui abbiamo maggiore irradiamento il che vuol dire che con questa pendenza la vigna riesce a essere molto più esposta al sole e riesce quindi a ricevere più raggi solari durante la giornata quindi la freschezza proprio di un clima un po' più freddo unito però a delle ore di luce e delle ore di sole che gli permettono di arrivare perfettamente a quelle che sono le caratteristiche che la famiglia fisher e klaus nel particolar modo vogliono appunto portare all'interno del vino cosa che ha caratterizzato però il lavoro proprio della famiglia quando klaus ha deciso di avvicinarsi proprio all'abitato di montagna per andare a creare la sua nuova cantina lo ha fatto andando a ragionare di sostenibilità pura in tempi in cui ancora la parola sostenibilità era si diffusa ma non era così di moda l'ho fatto andando a progettare un lavoro razionale che partisse dalla vigna quindi cercare di lavorare su degli inerbimenti delle culture autunnali che potessero in qualche modo rigenerare il suolo andando ad avere un approccio che fosse il più possibile senza chimica andando sempre a ragionare quindi di un rispetto ambientale incredibile considerate anche che con la grande pendenza la grande ripidità proprio dei vigneti diventa quasi impossibile meccanizzare bisogna fare quasi tutto manualmente la famiglia scherza dicendo che non è tanto una scelta etica quanto una necessità perché sarebbe estremamente sgradevole vedere dei trattori dei macchinari importanti imponenti rotolare giù dai dalle montagne e questo proprio vi dà l'idea della pendenza della ripidità proprio del dei vigneti di proprietà della famiglia fischer ecco in realtà questa è una battuta loro per cercare di un po portare del sdrammatizzare quindi quello che invece è un lavoro molto molto serio perché poi nel momento in cui hanno dovuto progettare la cantina hanno tenuto conto di tutto inclusa la nuova tecnologia intanto se si parla di irrigazione che a volte potrebbe essere necessaria in estate in alcuni territori stiamo parlando di goccia quindi in modo tale proprio da non avere in nessun modo uno spreco di acqua quando entriamo in cantina non c'è refrigerazione perché la cantina si sviluppa nelle fasi di vinificazione a livello sotterraneo quindi abbiamo la natura che ci dà la possibilità proprio di avere la temperatura e l'umidità costante perfetta e protegge anche da quelli che potrebbero essere degli sbalzi termici nocivi per il vino nelle sue varie fasi ricordiamoci che quando andiamo a svolgere la fermentazione quando andiamo oltre i 28 30 gradi celsius all'interno del tino rischiamo dei blocchi di fermentazione e quindi per poter lavorare in maniera rispettosa dell'ambiente senza chimica abbiamo bisogno di avere una cantina con determinate caratteristiche queste caratteristiche le ritroviamo proprio all'interno del lavoro svolto della famiglia fisher hanno lavorato anche sul creare i propri compost quindi andando a prendere dalle lavorazioni di scarto proprio fatte in vigna fatte nel resto della tenuta quelle che è la base necessaria per poter poter creare il compost quindi per poter compostare ci vuole molto tempo per compostare quindi anche molta pazienza però la soddisfazione di avere un ciclo praticamente chiuso garantisce poi quelli che sono anche dei risultati qualitativi importanti la famiglia fisher però si è voluta spingere oltre tant'è che la cantina oggi riesce ad avere circa il 75 per cento 80 per cento del fabbisogno energetico prodotto direttamente abbiamo un fotovoltaico ma abbiamo anche un sistema di geotermia molto interessante quindi è stato pensato tutto in modo tale da poter avere un impatto bassissimo non deve stupire infatti che questa è stata la prima cantina certificata a casa clima in italia quando si parla con la famiglia loro svelano anche qual è stato il segreto per poter essere la prima ovvero il non volere essere stata la prima perché hanno pensato alla cantina indipendentemente della certificazione scoprendo soltanto una volta ultimata la cantina che era nata questa certificazione casa clima che va proprio a certificare il bassissimo impatto ambientale che gli edifici dedicati al vino perché stiamo parlando di casa clima wine hanno appunto sull'ambiente tutto questo però si deve ovviamente tradurre poi su dei vini interessanti dei vini importanti o comunque almeno dinamici e divertenti la famiglia fischer ci riesce alla grande intanto va a utilizzare sei comuni differenti per giocare anche su altitudini composizioni del suolo ma anche vitigni completamente diversi l'uno dall'altro è interessante perché la zona di montagna è la zona dove vanno a focalizzarsi principalmente sul pinot noir è una delle zone più elette in assoluto in italia per questo vitigno e dal vigneto langfeld riescono appunto ad andare a produrre un pinot noir eccellente in stile un po' borgogna per alcuni tratti ma la finezza l'eleganza e la capacità di beva sono tipicamente altoatesine il lavoro quindi che viene svolto è un lavoro di differenziare anche proprio i vigneti ma anche lo stile produttivo in funzione del comune in cui si è tra i comuni oltre a fielo schillar possiamo citare appunto montagna egna cortaccia quindi è un lavoro portato avanti in alcuni dei territori più vocati in assoluto del sud tirolo proprio voler affermare che una filosofia così forte una visione così forte una famiglia con delle radici che oggi superano quindi 150 anni può andare a valorizzare con la sua idea quelli che sono poi dei vigneti dei territori incredibili dal pinot noir in stile borgogna matan di claus fisher ci spostiamo in realtà non è anche di tantissimo da un punto di vista geografico anche se andiamo nella zona più a sud per la produzione di vino del su tirolo siamo nella zona di salorno di preciso siamo a pochi ecco qui incontriamo alois auction writer nome difficile ovviamente da pronunciare ma che ha interpretato il pinot noir più in stile champagne per intenderci alois a l l'erede della tenuta osmanov quindi dal 1976 questa tenuta che comunque può vantare origini antichissime svolge un ruolo veramente importante per quella che è la spumantizzazione del sud tirolo sappiamo che quando parliamo di spumante facciamo più riferimento al trentino che al sud tirolo in questo caso appunto sale salorno e pochi nello specifico sono veramente a ridosso di quella che è la piana rotaliana quindi siamo veramente a ridosso di trento siamo vicinissimi è un territorio quasi di confine dove la spumantizzazione avviene in maniera quasi naturale infatti qui nasce l'azienda aderburg quindi dal podere osmanov nasce questa linea quindi l'azienda aderburg portata avanti da alois con un approccio biodinamico quindi questo è un altro tema che ritorna molti dei produttori del sud tirolo hanno trovato giovamento nel modo di lavorare ovvero un quello estremamente rispettoso della natura andando a cercare di avere non soltanto un concetto etico ma anche una qualità in vigna data proprio della biodinamica dove sui rossi riusciamo a ammorbidire un po i tannini e sui bianchi riusciamo ad esaltare quelle che sono poi le caratteristiche proprio di sapidità del sole del terreno ad ogni modo qui alois riesce a lavorare magistralmente con il pinot noir con lo chardonnay ma anche con il merlot è la tenuta che ha dedicato anche ai vitigni a bacca rossa mentre di recente con l'avvento del nuovo secolo alois ha deciso di acquistare una tenuta anche nella valle sarko dove andare a focalizzare il lavoro sui vitigni a bacca bianca quindi dal gewurztraminer ardisling e via dicendo giusto per poter valorizzare al massimo la grandissima acidità la grandissima freschezza che il territorio più a nord del sud tirolo sa regalare tornando però a quella che è la base aderburg intanto perché si chiama così beh uno delle attrazioni più importanti che abbiamo sul territorio è rappresentato dal castello di salorno questo rudere che poi è stato ristrutturato in epoca recente che spicca proprio su questa collina su questo puntone quasi quindi sembra quasi sospeso nel vuoto è un castello incredibile anche perché ha saputo ispirare addirittura i fratelli grim per una loro favola ecco questo castello è detto anche aderburg ed è da qui che l'azienda prende il il nome la volontà quindi di esaltare ancora una volta la territorialità nella azienda nel podere nella tenuta osmanov quindi quella che poi fa riferimento alla tradizione vera di aderburg trovano spazio sia ai vini spumanti che i vini fermi parliamo del mondo degli spumanti abbiamo il padose che è una delle grandi interpretazioni appunto di aderburg in cui il pinot noir ha una quota che ha compresa tra il 10 e 15 per cento il resto è chardonnay quindi il pinot noir viene chiaramente utilizzato spumatizzato in bianco però il padose è caratterizzato proprio anche da questa grande generosità da questa quasi masticabilità nonostante rimanga sempre molto elegante se andiamo invece sul mondo della riserva troviamo proprio aderburg osmanov perché osmanov quindi il nome dell'antico maso che dà origine all'azienda lo ritroviamo in etichetta quando stiamo facendo riferimento spesso appunto alle riserve questo caso però l'azienda decide di lavorare un cento per cento chardonnay proprio per esaltare quelle che sono le caratteristiche di questo territorio non dobbiamo pensare che l'espressione nonostante trento sia veramente vicina sia esattamente quella di un trento doc anche perché ricordiamoci che il retaggio culturale qui è molto differente stiamo parlando comunque sia del mondo dell'alto adige qua la verticalità spicca la bolla è sempre una bolla abbastanza importante i vini non sono mai troppo esili sono sempre molto molto ampi e questa è una caratteristica molto interessante del degli spumanti appunto di aderburg mentre quando andiamo a lavorare sui rossi per esempio appunto rot quindi rosso che è uno del dei vini che ha rappresentato osmanov nel nel mondo lavorato con pino noir ma anche merlot troviamo proprio una finezza una scorrevolezza incredibile quindi è proprio vero che in sud tirolo i vitigni a bacca bianca sono caratterizzati da una grande finezza intrinseca ma la tanta luce e tanto sole permette di ampliarli mentre vitigni a bacca rossa soprattutto quelli di origine francese sono esaltati alla perfezione sull'aspetto di eleganza vengono spesso e volentieri alleggeriti poi dipende anche lo stile ovviamente del produttore questo caso alois dal 76 che sta portando avanti questa progettualità estremamente importante guadagnando premi dopo premi un anno è riuscito addirittura ad avere il riconoscimento come miglior vino spumante italiano qualcosa che ci deve far riflettere su quello che è il potenziale di un territorio come quello di salorno che piano piano sta vedendo sempre più produttori attivi